video news di giovedì 14 dicembre i titoli open day vaccini nelle aste aumentano i casi di contagio da SARS-CoV-2 e di ricoveri ospedalieri per covid-19 col diretti Ancona il progetto del carcere di Barcaglione l'agricoltura diventa protagonista del riscatto sociale premio d'orico 2023 a Federica Cianficconi interprete del presidente Macron e di Hollande l'orgoglio dei settempedani e nello sport chef macerata Livio Bugiardini vince il premio atleta italiano master 2023 ben trovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro video news come in tutta italia anche nella nostra regione si sta registrando un aumento dei casi di contagio da SARS-CoV-2 e di ricoveri ospedalieri per covid-19 attualmente sono 280 i pazienti ricoverati nei reparti non intensivi degli ospedali marchigiani 37 in più rispetto alla scorsa settimana i pazienti in terapia intensiva sono invece 5 su 206 posti letto rispondiamo ad una richiesta di collaborazione del ministero ha dichiarato il vice presidente Filippo Saltamartini riattivando gli open day in tutta la regione giornati in cui è possibile accedere alla somministrazione del vaccino senza prenotazione per quanto riguarda la vaccinazione anti covid-19 una novità è rappresentata anche dall'arrivo del nuovo vaccino ricombinante adiuvato nuva xovid anche esso aggiornato alle ultime varianti in circolazione per la cui somministrazione occorre rivolgersi al proprio medico come è noto la vaccinazione che protegge chi la riceve e riduce il rischio di sviluppare forme gravi della malattia è particolarmente consigliata ai soggetti anziani over 65 e fragili ma è importante l'adesione estesa al fine di ridurre la circolazione dei virus e anche gli accessi alle strutture sanitarie per informazioni sulle vaccinazioni anti influenzale ed anti covid-19 è possibile consultare il sito web regionale intanto l'aste macerata sabato 16 dicembre presso gli ambulatori dell'ispe di piedi ripa dalle ore 9 alle ore 14 organizza all'open day di vaccinazione era destinatario di un ordine di carcerazione in belgio un quarantenne tunisino è stato arrestato a civita nova marche l'uomo gravato da un provvedimento di cattura europeo emesso a fine novembre dalla corte penale di lingua francese di primo grado di bruxelles è stato individuato a civita nova si era volontariamente allontanato dal belgio stabilendosi in italia nei suoi confronti sono contestate le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali commesse in belgio nei confronti di più donne l'uomo è stato portato nella casa circondariale di pesaro il progetto di agricoltura sociale del carcere di barcaione è pioneristico nel panorama nazionale e dalla dimensione dell'importanza del mondo agricolo al fianco delle comunità come col diretti siamo lieti di farne parte lo ha dichiarato francesca gironi presidente di col diretti donne impresa marche questa mattina durante il convegno l'agricoltura strumento di integrazione sociale per il sistema penitenziario che si è svolto ad ancona proprio la col diretti è impegnata da anni nel sostenere il progetto della fattoria barcaglione una vera e propria azienda agricola multifunzionale all'interno della casa di reclusione qui i detenuti imparano gli antichi mestieri legati alla terra l'asienda di recente è entrata nella rete di campagna amica e partecipa ai mercati contadini con i propri prodotti sarà ridefinito lo schema di convenzione con il consorzio di bonifica delle marche per l'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006 che riguardano il bacino idrografico del fiume aspio rio scarica l'asino nel comune di osimo il progetto prevedeva la realizzazione di sei casse di espansione in linea da posizionarsi nel seguente modo tre sul fosso di offagna una sul fosso di san valentino e due sul rio scarica l'asino presentato il nuovo programma di amat platea delle marche 2023 24 che vede coinvolti ben 79 comuni della nostra regione scopriamo quindi di più nel servizio che vi proponiamo presentato nella sede della regione marche alla presenza dell'assessore alla cultura chiara biondi di piero celani presidente amat e gilberto santini direttore amat il calendario di platea delle marche 2023 24 riconosciuta dal mic come circuito multidisciplinare e dalla regione nel cui territorio opera in via esclusiva come soggetto di primario interesse regionale amat programma gestisce promuove i progetti teatrali delle marche con la regione i 79 comuni e gli altri soggetti associati e la complicità di ben 92 partners marchigiani tra compagnie fondazioni e associazioni è sicuramente un momento importante per la regione marche per quello che riguarda l'aspetto culturale grazie alla all'importante lavoro che è stato fatto da amat ovviamente insieme all'assessorato alla cultura innanzitutto portiamo 500 spettacoli e tocchiamo veramente tutte le marche tutti i territori soprattutto cercando di dare voce ai nostri teatri che sono dei luoghi meravigliosi e soprattutto facciamo lavorare oltre 150 artisti marchigiani questo è un altro dato importante e significativo anche perché abbiamo delle eccellenze professionali nel nostro territorio che devono essere assolutamente valorizzate portiamo inoltre delle residenze artistiche anche questo è un altro fiore all'occhiello perché diamo la possibilità a tanti artisti di poter approvare le loro prime proprio nei nostri bellissimi teatri e poi questo è anche un modo per far conoscere il nostro territorio e comunque poi per far conoscere le marche al di fuori dei confini nazionali. Abbiamo attraversato un momento difficile come ha detto l'assessore il terremoto prima la pandemia poi l'alluvione successivamente insomma abbiamo resistito e voglio dire abbiamo collaborato molto bene con gli antilocali ma soprattutto siamo riusciti a cogliere la volontà della gente quella di tornare veramente ad aggregare a stare insieme del teatro sappiamo benissimo che è un luogo di aggregazione molto importante perché ci si vede ci si incontra si critica chiaramente si fanno commenti cose di questo genere è quello che vogliamo noi e l'AMAT è riuscita anche a proporre insomma dei cartelloni molto interessanti ai comuni i comuni l'hanno colto in modo entusiastico hanno messo anche delle risorse cospicue per cui tutto questo ha portato in questa stagione 2023-2024 ad avere un incremento di abbonati intorno al 25% come media regionale con punte che arrivano al 40-45% insomma posso segnalare fermo ad esempio insomma che in due serate ha fatto 903 abbonati insomma anche d'ascoli insomma che in due serate insomma intorno ai 500 abbonati quindi veramente un luogo molto importante è un momento molto significativo dobbiamo naturalmente stabilizzarlo questo momento dobbiamo far vedere che il teatro chiaramente è non soltanto diciamo un aspetto culturale un aspetto sociale un aspetto come ha detto lei un aspetto economico molto 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 importante questo avvio di stagione che devo dire ci ha già commosso per l'attenzione del pubblico campagne abbonamenti trionfali è un dato medio regionale del 25% con punte di 40-45% in più significa che c'è voglia non solo di avere un'esperienza teatrale ma anche di averla prolungata di fare un viaggio proprio come quello che noi costruiamo nelle stagioni teatrali e oltre 130 mila i biglietti già venduti ad oggi quindi insomma davvero numeri impressionanti ma che testimoniano l'affezione dei marchigiani e quanti vivono questo territorio per i loro luoghi teatrali insomma noi il teatro è dicevo un documento del 1800 è il degno ornamento di ogni culta città ogni città vede nel teatro un luogo in cui è possibile emozionarsi riflettere insomma per questo abbiamo scelto quest'anno uno slogan molto semplice insomma ricorda di emozionarti e vieni a teatro c'è qualcosa di bello che ti aspetta e accanto a questo Amat continua il suo lavoro innanzitutto di attenzione rispetto al Made in Marche di Qualità sono tanti gli artisti di casa nostra che fanno un lavoro egregio infatti dei più di 500 spettacoli che organizziamo 150 sono con gli artisti di casa nostra naturalmente con uno sguardo poi nazionale e internazionale tanti progetti di varia natura tutti destinati a rispondere alle esigenze di un territorio anche nelle sue eccellenze penso ad esempio al Pesaro Capitale Italiana della Cultura che è un progetto che stiamo seguendo in primissima linea così come Montalto Metro Borgo quindi l'esperienza di un piccolo borgo che si ripensa che accompagneremo nei prossimi anni insomma davvero tanti progetti diversi uno sguardo all'Europa sempre più convinto sempre più fermo insomma è davvero emozionante vedere la platea delle Marche così viva e speriamo che sia appunto un viaggio che non si interrompa più come è accaduto col periodo pandemico Senza esitazione e con coraggio hanno salvato la vita di una ragazza un gesto di valore ed altruismo che deve essere esempio per tutta la comunità così il presidente del consiglio regionale Dino Lattini nel consegnare gli encomi dell'assemblea legislativa alle brigadiere Alessandro Galiotta e al vice brigadiere Alessio Rossetti nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sala Bastianelli di Palazzo delle Marche Parlano sempre più settempedano le eccellenze marchigiane nel mondo nell'Olimpo dei Volti noti c'è anche Federica Cianficconi nata a San Severino e oggi interprete del presidente della Repubblica di Francia Macron e prima ancora di Hollande a lei è stato assegnato il premio d'orico 2023 ambito riconoscimento pensato per valorizzare i nostri corregionali che si stanno distinguendo nel proprio campo di attività sia in Italia che all'estero ma che purtroppo sono poco conosciuti da noi Federica lavora per l'Eliseo da tempo ha seguito diversi capi di Stato francesi nelle visite ufficiali in Italia e capi di Stato italiani in quelle ufficiali in Francia dagli incontri tra Hollande e Mattarella a quelli dell'ex premier Matteo Renzi nella sua cara San Severino fa ritorno spesso perché qui conserva tante amicizie e legami familiari Migliorare il livello di qualità dell'aria nelle città un contributo importante verso questo obiettivo lo danno i boschi urbani per questo la regione stanzierà risorse pari a 1.700.000 euro da ripartire in forma di contributo a favore dei comuni e delle unioni dei comuni L'inquinamento atmosferico ha un significativo impatto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente ed è pertanto necessario attuare tutte le misure per rispettare i valori limite di qualità dell'aria Nel mando che varrà emanato a breve saranno fornite tutte le indicazioni per la presentazione della domanda di finanziamento La Croce Rossa italiana di Camerino ha organizzato ieri sera una conviviale di fine anno per ringraziare tutti i dipendenti, volontari e simpatizzanti che quotidianamente si adoperano per il territorio Scopriamo di più nelle interviste realizzate sul posto da Marco Moscatelli Questa sera abbiamo organizzato questa cena che è una cena di ringraziamento per tutti i volontari, i dipendenti, i consiglieri, i delegati che si adoperano tutto l'anno per svolgere attività a sostegno della popolazione sul nostro territorio Siamo circa 80 partecipanti Ci ha sorpreso, oltre ai volontari, ai dipendenti e altre persone abbiamo avuto molto riscontro da parte delle istituzioni locali e addirittura abbiamo l'onore di avere con noi questa sera il Vice Presidente nazionale Deborah Diodati della Croce Rossa italiana Sono contenta oggi di essere qui a Camerino e finalmente ci riuniamo in un momento di festa La Croce Rossa di Camerino, il territorio di Camerino è stato appunto un territorio purtroppo abbastanza colpito da tutta una serie di eventi quindi oggi siamo invece contenti di essere qui tutti insieme per festeggiare Croce Rossa italiana è intervenuta con una serie anche di opere di ricostruzione sul territorio e oggi però siamo contenti di essere qui a onorare soprattutto il grande lavoro delle volontarie e dei volontari di Croce Rossa nel Comitato di Camerino del Presidente Broia che è un lavoro infaticabile di 365 giorni l'anno è un'associazione che fa tanto sul territorio è un'associazione che oggi ci scambiamo gli auguri di Natale ma che tutto l'anno è presente sul territorio poi per noi oggi un grazie prima di tutto al Presidente Gianfranco Broia per l'attività che annualmente anche quest'anno ha svolto sulla città di Camerino ma su tutto un territorio che fa riferimento alla città un grazie al Vice Presidente che oggi è presente della Croce Rossa nazionale perché poi Camerino vediamo in questi giorni che la Casa di Riposo sta andando avanti quindi un grazie anche grande alla Croce Rossa nazionale che ha voluto donare alla città di Camerino la nuova Casa di Riposo quindi una struttura che il prossimo anno fatto salvo alcune sistemazioni di natura diciamo amministrativa stiamo definendo però andremo ad inaugurare quindi veramente un grazie a tutti un grazie alla sua azione e al Comitato Locale e un grazie anche a tanti volontari che quotidianamente svolgano il loro servizio presso appunto il nostro Comitato Locale una serata speciale una serata che serve sì per gli auguri ma che serve anche per ricordare quanto importante è la Croce Rossa su scala nazionale ma soprattutto su questi territori l'ha dimostrato nei momenti più difficili lo sta dimostrando tuttora e quindi un grazie sentito a tutte le donne e agli uomini che ogni giorno sono vicine a queste popolazioni con grande credo grande forza e grande cuore anche quest'anno a Castelraimondo sono visibili diversi presepi artistici che rimarranno allestiti fino alla fine delle festività due sono stati realizzati dalle sapienti mani di Giampiero Gabrielli il primo si trova in vetrina presso i locali dell'ex cinema Manzoni mentre il secondo è esposto in Piazza della Repubblica nell'area dove è allestita la mostra di pittura di Miroriga il terzo presepe da ammirare è invece un quadro fatto con fiori essiccati dagli infioratori di Castelraimondo visitabile lungo Corso Italian la sede didattica Tucci dell'Università degli Studi di Macerata ha ospitato la direttrice generale della fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatty che si è raccontata agli studenti nell'ambito del progetto la leadership democratica diffusa percorsi per formare persone di riferimento nella comunità sociale un'occasione per condividere la propria esperienza alla guida di un ente culturale e per riflettere sulla visione e sull'evoluzione di una leadership al femminile oggi sempre più riconosciuta Lucia Chiatty ha raccontato come nella sua vita abbia conogato due grandi passioni personali l'amore per la cultura e per la musica con l'interesse per l'economia per questo ha invitato i ragazzi ad affermare la propria realizzazione professionale e sociale Uno straordinario viaggio sonoro alla scoperta delle melodie senza spazio e tempo del tango in compagnia di uno dei più apprezzati due in Italia Domenica 17 dicembre alle ore 18 si esibirà al Politeama di Tolentino Sator Duo con Istuar du Tango Francesco Di Giandomenico alla chitarra e Paolo Castellani al violino eseguiranno le più belle musiche di Piazzolla Rodriguez, Gardel Villoldo e Castellani Sta per volgere al termine con le premiazioni di domenica prossima anche l'edizione 2023 della rassegna Dialettiamoci ospitata all'interno del rinnovato Teatro Comunale di Caldarola La mattinata di sabato riserverà un incontro particolare rivolto agli studenti e dedicato interamente al dialetto e a chi lo pratica maggiori dettagli ve li lasciamo scoprire nel servizio Dopo la commedia L'Uva Ulle portata in scena sabato 9 dicembre dalla compagnia La Nuova di Belmonte e Piceno Dialettiamoci chiude con la premiazione delle compagnie insieme alla musica e al canto di Marco Meo e lui Trania Nà Sarà un ritorno agli albori o quasi la premiazione nel Teatro Comunale di Caldarola alle 17.15 di domenica 17 dicembre Questa edizione della rassegna commenta il sindaco Luca Maria Giuseppetti ci ha consentito un ritorno trionfale in teatro luogo di aggregazione per antonomasia La compagnia di Gabriele Mancini ha saputo regalare al pubblico un altro esempio di comicità cristallina insieme ai suoi sperimentati attori sul palco è salita anche Teresa Minucci assessore alla cultura Ora la parola passa però alla giuria composta da Gaetano Tartarelli Alberto Cingolani Nazareno Epiri ed Adriano Marchi e al pubblico Saranno Esther De Troia ed Alessandra Doria a condurre la presentazione Saranno presenti anche i sindaci dei cinque comuni interessati e gli sponsor che hanno sostenuto la Kermess Intanto sabato 16 dicembre va segnalato un interessante convegno ospitato sempre al teatro dal titolo Il dialetto e i suoi parlanti in programma dalle ore 9 e 30 All'incontro assisteranno anche gli studenti dei licei di Macerata e Tolentino e quelli di terza media di Caldarola e Belforte del Chienti Si parlerà di dialetto ma soprattutto si ascolteranno i parlanti cioè tutti quegli artisti che il dialetto lo maneggiano lo scrivono lo raccontano e lo trattano provenienti dall'intera regione Una panchina del dono è stata inaugurata dall'Aido l'Associazione Italiana Donatori di Organi e dal comune di Val Fornace nello spazio antistante il nuovo centro polifunzionale donato dalla Croce Rossa italiana nei pressi degli impianti sportivi sulla panchina di colore rosso è stato inciso lo slogan Io dono non so a chi ma so perché chiunque passerà davanti alla panchina spiegano il sindaco Massimo Citracca ed il vice sindaco Ivan Ececola potrà ricordarsi che un piccolo gesto potrà fare grande una vita donando una speranza venerdì 15 dicembre ossia domani c'è il tradizionale spettacolo di Natale dell'Anfas Civita Nuova come sempre ragazzi e famiglie dell'associazione incontreranno la cittadinanza per scambiarsi gli auguri di buone feste e condividere un piacevole momento di felicità l'appuntamento è al Teatro Conti di San Marone a partire dalle ore 21 quando sul palco salirà la compagnia teatrale marchigiana gli indimenticabili per regalare al pubblico una serie di sketch tutti da ridere è uscito il brano e il video natalizio che Natale è interpretato da grandi nomi della musica italiana tra cui Gaetano Curreri degli Stadio Raff Nina Zilli Anna Tatangelo Paolo Vallesi e Orietta Berti nel singolo sono coinvolti anche gli speaker di radio Subasio che cantano insieme ai big della musica italiana i produttori e gli autori sono ben noti nella scena musicale Emilio Munda il Morro Vallese Piero Romitelli e Marco Colavecchio il progetto è nato da un'idea dello stesso Vallesi e da Beppe Cuva direttore della radio vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria le notizie sportive Previsioni per venerdì 15 dicembre cielo irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi in ingresso dal mare con maggior persistenza nelle zone appenniniche rovesci sparsi più frequenti sul settore centro-meridionale limite delle nevicate in graduale calo da 1200 metri a 900 metri nel corso della giornata temperatura in lieve diminuzione venti moderati o tessi mare molto mosso o agitato per nubi di a c'è l'alberia Grazie a tutti